È terminato nella giornata di mercoledì 7 agosto il mese del digiuno per la comunità islamica. Il Ramadan, che era iniziato lo scorso 10 luglio, ha lasciato il posto alla festa del Bairam. La comunità islamica retina si è ritrovata nei locali della nuova moschea in via Ferraris, dove l'imam ha letto per l'occasione la lettera agli auguri arrivata dal Vaticano. Come oggi siamo nel giorno della festa di Ramadan, si trova il nostro locale nuovo, questa nuova moschea si trova nel via Ferraris 248, che grazie a Dio noi siamo usciti da quei problemi della moschea. Ora siamo qui, la comunità islamica d'Arezzo ha comprato questo locale, e alhamdulillah da un anno che siamo qui. All'occasione di questa festa di Ramadan io vorrei farci auguri a tutti i fratelli musulmani, soprattutto i darettini che sono qui con noi, come vedete oggi sono tante persone che vengono a fare la preghiera con questo locale. e le ringraziamo anche la famiglia cristiana che ha mandato la lettera del Vaticano, del ringraziamento di questa festa di Ramadan.